Arrivati nella stanza di Dedalo dovrete prendere quattro scrini segreti. Seguite il nostro video per scoprire come fare. Grazie per la visione! Ecco il primo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Seguiteci! Tirate la leva per far calare gli scrini. Tornate velocemente indietro. Ecco qua gli scrini. Grazie per la visione! Grazie! Grazie per la visione!